Non sentire più quel brivido davanti a un evento irridato ti dà più nostalgia o voglia di tornare a sentirli? Io lo sento, la realtà è che se uno è un animale da gara lo sente sempre, per questo è importante fare le gare, per questo è importante avere quella paura la sera prima, come si dice, rimanerci male se non hai fatto bene le ripetute. È ovvio che l'esasperazione, l'intensità che si vive per un appuntamento olimpico non è di una giornata, ma sono di anni. Però io, un esempio banale, è vero che lo faccio con un partner legato al mondo del running adesso per la maratona, però fondamentalmente è una scusa per fare quello che ci piace. Ed è ovvio che tutti i giorni bisogna ritagliarsi di quei momenti per fare un po' la differenza.